ok eccoci qua friends friends con irohoto e il mio rogue la mia rogue la mia rogue get into get into breath of the lich king a scourge dai su benissimo ecco irohoto sempre questa pletora qua perché sennò questa roba qui mi va troppo vicino la mia allora io vado di shadow strike in maniera usuale poi vado di shadow step e backstab tatam 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 tatatatam via via vai dimostriamo tac 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 e tac una bella stunnatina tac e un backstab e via e via e via che muore come ridere shadow 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 andiamo in shadow per dio via di nuovo di nuovo in backstab in backstab di nuovo doggiamo doggiamo damage over time non c'era bisogno però in questo caso shadow 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 per dio in stealth non shadow 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 vai 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 concretamente stunniamolo backstab vai 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 uno di nuovo backstab e la facciamo anche ridere e la facciamo anche ridere e al mio rivale mi inchino per dio di nuovo in stealth di nuovo in stealth ok prima di ammazzarti mi inchino alla tua potenza questo qui intanto lo sistemiamo come si deve adesso adesso entriamo in shadow step e ti conto per le feste il mio assassino crudele crudelissimo assassino molto bene abbiamo i nuovi point we got new point allora cosa abbiamo ah sub healthy point e questo mi piaceva questa è una vita che vorrei averlo draws upon surrounding shadow to empower your power your weapons causing your combo point generative ability one additional combo questa è una figata pazzesca vediamo cos'è questo shadow stack best step è 15% no no non lo trado non lo trado non lo trado questo il shadow blades questo in pratica mi dà un additional combo point di 50% additional damage e shadow for 20 seconds apply changes my friend senti come urlano sti cazzo di bambini un orare unico è un orare unico per dio per dio allora e andiamo di nuovo di shadow di shadow non non vvv non vvv non vvv di nuovo di nuovo di nuovo di nuovo ingegniamoci di nuovo da stumiamo ti stunno come pochi e tirandello e tirandello lo andiamo verso nuove avventure dobbiamo cercare di capire cosa devo fare allora qui è ghialerbron attack plans questo non mi interessa ma qui l'alternativa è andare a zuldrak io propongo di andare a zuldrak voglio andare in quel dig zuldrak però si passa da grizzly hill va bene va bene va bene la mia il mio obiettivo zuldrak quindi col mio topo col mio splendido topo eccolo qui il mio topo fantastica mount fantastica mount devo dire è una fantastica mount andiamo verso zuldrak minchia come sono odiosi sti cazzo di murloc i murloc i murloc ancora sono manine che volano cari miei murloc sono in combat faccio essere in combat sta delirando sta delirando sta delirando sta delirando questa roba come dei funghi si sono funghi sono dei fungotti eh qui siamo grizzly hill è cambiata la musica e siamo in grizzly hills va bene torniamo a montare il nostro topo vabbè dai decido di star qui in grizzly hill facciamo la bella daily abbiamo delle daily chi è costui surgeon downy allora there are still pockets of cowardly venture company man hole up in some of the buildings in the center of venture bay i need every man i can spare out there fighting against the horde but we can't allow those venture companies fuggers to camp out in those buildings either maybe we can convince between quotes then to make for the ship take this smoke bomb and use it to smoke out these stragglers from their places in a bunkhouse saw me or stables don't get too close though they probably bite morsicano questi mordono use the smoke bomb to drive 20 venture companies take us from their buildings and then report to surgeon downy all right seven gold pieces accept but c'è altra roba beh chiaramente non leggo tutte le cose perché sono una pletora il mobile to drive 20 compri eccetera ah no ho capito perché ho l'inventory full come diceva il message allora andiamo un po di sbarazzarci di qualche cacata per esempio questa mi sbarazzo di questa cacata una specie di anelloide lì su sfondo azzurro non so che cazzo è va bene ok e con la lì non ho mai capita allora no ma ci sono altre daily qua altre daily freeman suggested player 2 3 no non ci penso neanche no non capisco non capisco non capisco allora vediamo un po questa una quest normale vediamo cosa mi mi dice questo barbel think so you can solve that and the alliance base in belchior bay wants you to bring him canister elements under 15 all right got it all righty then mi interessa i don't care allora questa musichetta qui è molto triste io non la rego molto perciò la disaventiamo perché la musica mi attristisce mi attristisce per dio mi è niente triste per dio ok ten whole kill in belchior bay ten whole kill in belchior bay va bene vediamo di killare dieci ordani dieci ordani andiamo a cercare gli ordani eccoli qua gli ordani questi sono ordani a vabbè il circo vediamo stabbiamo poca puttana, è meglio svanire, ragazzi miei è meglio svanire, sto facendo un po' di cazzetti, un po' di cazzetti, ne ho aglati troppi, ne ho aglati troppi, ne ho aglati troppi, vediamo di cercare di, vediamo di lurare il deficiente, il deficiente, il lur, il lur, ti lur, ti lur, ti silur, doggiamo, doggiamo di bestia e stunniamo, io direi stunnarlo anche lui e continuare con questo qua, un po' di velocità ci vuole, un po' di frizzante velocità ci vuole, dai però, dai però, dai però che tirandello di bestia, tutto bene, ah già che devo andare, devo andare a Dalaran, I have to go to Dalaran, yes, I have to go to Dalaran, prendiamo questo qui che deambula, che gira come un idiota, di The Major Time, velocità a non finire, e adesso ti stunno, la stunnazio ti fa bene, questo qui cos'è nuovo? Ah è vero, cazzo questo è nuovo, questo è nuovo, devo absolutely vedere cosa cazzo è, Shadow Blade, ah già è vero, quello che ho appena preso, Draws upon surrounding shadows to empower your weapons, causing your combo, vediamo bene, Shadow for 20 secondi, 20 secondi sono tanti, allora devo trovare lo slot dove metterlo, questo è il problema di questo qui, mettiamo sul 6, sul 5, allora, 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 mmm, sul 5, ok mi devo ricordare che sul 5 c'è questo qui che è molto important, perché questo in pratica mi dà, esatto, cosi combo point generating abilities to generate one additional combo point and deal 50% additional damage, questo è uno sballo, il discorso è che ha due minuti di cooldown, ecco, sì, proviamo, proviamolo subito, proviamolo subito, la mattina, da maggio over time, eh sì, oh beh, ciao, arrivederci, un po' di dodge ci vuole, eh, stai calmo, eh, stai calmo, eh, stai calmo, perché mi hai già tritato le palle, non c'è solo in due, stoniamolo, e andiamo su questo qui, damage over time, very knife, dai, 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 riandilliamo, riandilliamo, oh, 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 ah, questo è qui ancora vivo, va bene, ti stunno di nuovo, non è nuovo perché stai sulle palle e continuo a stunnare, bene, Minchia ma sei veramente una rottura di palle Ah ma qui c'è un altro Due coglioni No ma ti randello Ti randello alla grande Ti stunno E ti randello alla grande Alla grande ti do la randellata Ti stunno di nuovo Ah eccolo Sei morto sei morto perché sei un idiota Allora Quanti me ne mancano Quanti me ne mancano No ma com'è sta storia Manco mezzo Ah perché non sono quelle Allora minchia che imbecille What a imbecille I am What a imbecille I am I am an imbecil Eccoli qua dove sono Pasterdi Adesso vi segui Vi randello io porca puttana Val 5 ci vuole adesso Ah sono qui in due Siete qui in due a fare comunella Siete qui in due a fare comunella E io ti stunno E io ti stunno Due di dieci Sì allora sono proprio loro Va beh Perché sono in combat Dove cazzo che sono in combat Dove cazzo che sono in combat Porca puttana Eeeh che cazzo Con le combat Adesso ti stunno Mi sappo Mi sappo La bevutina Quindi sono 3 di dieci Molto bene Eeeh Al makata Stunnazio Stunnazio Anzi adesso Ti lo mandiamo fuori causa Perché al mastifi Sono dell'idea Di stunnarti Di nuovo Quindi siamo a livello di Che bella pozionecina Che bella pozionecina Quanti sono? 5 di 12 Molto bene Ma che è il topo Dai Stai calmo Questo topo Mototopo E autogatto Mototopo E autogatto Mototopo Questo qui Questo qui vuole Essere scaldato Un'atina Dai via Un'altra stunnatina Dai via Che ti sistemo Dojo Non c'era nulla Da doggiare Ma dojo Ah Hai fatto fuori Un ali E allora Ti stunno Ti stunno Ti stunno Sono la stunnazio Sette di dieci Ancora no Come ci da dentro? Come ci da dentro? Urco 2 Quanti sono? Urca puttana Mi conviene Vanificarmi Devo vanificarmi Devo vanificarmi A stiluro I loro Uno per uno Urco 2 Ma che qui Che è schifo? A tastini A statuna Bella stunnata Adesso A tastini Ancora A tastini Bella stunnata A tastini Wait Posso metterli in pausa? Buschiamo Questo Ok Eccoci qua Di nuovo Eccoci qua Di nuovo Dopo una pausa Una breve pausa E un po' Frame 131 Vaca bestia Stunnatina Così ti prendi le belle legnate Dal mio damage over time E sei a posto Niente Sono sempre in coso Porca puttana Un po' di velocità Ci vuole qua Un po' di velocità Ci vuole qua Un po' di velocità Un po' di target Un po' di target Va bene A tal du mi il target A tal du mi il target Un 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 A tal du mi il target Un Tanto Beviamo la pozzoncina La pozzoncina Che ci riassesta sesta il target via via calmo stai calmo che te le suono te le suono da dietro così almeno il pacifico ok va bene va bene stunnazio stunnazio la parola d'ordine è stunnazio stunnazio un bel sapone stunnazio stunnazio a questa qui sta reagendo ti stunno adesso ti stunno ragazza mia ti stunno ti stunno ti ammazzo e ti stunno la madonna aveva già fatto fuori l'alligio no l'alligio no cos'è turni ready to turn in si mi sa di si è ready to turn in va bene va bene ragazzo di country 020 venture company staggler smoke it out cazzo devo fare mi sa che devo leggere cosa devo fare mi sa che devo come dire bollire far bruciare per qualcosa di questo genere siete in due siete in due uno di voi due finisce male e l'altro avrà vita molto difficile perché ti stunno ti stunno e non te la cavi ragazzo non te la cavi adesso tocca a te caro il mio tanzonio non vivi per molto con la mia rabbia ti stunno e nuovamente ti stunno non ti ho fatto vivere per molto vai l'uriamolo quest'idiotta quest'idiotta questo è un idiota va la legnata vacca bestia però devo dire che io sottovaluto le viscerate ma le viscerate ha il suo perché al suo mega perché questa non figata hai capito che non puoi fronteggiarmi caro mio non puoi fronteggiarmi non mi puoi fronteggiare non puoi non puoi fronteggiarmi ti stunno la stunna zio la stunna zio diamo di velocità orca puttana ho buttato via l'opportunità ho buttato via l'opportunità ho buttato via l'opportunità non capisco cosa devo fare qua cazzo ma è il bombs away ah forse il bombs away ah si si ho capito ecco perché erano così addensati erano addensati c'era un motivo per cui erano così addensati basta andare di bombs away bombs away non è che li faccia molto oh alzio no tasti uni a tasti uni altra di una bella asti un'ata vado a vedere la città porca puttana questo qui oh vabbè non va bene ti stunno ti stunno ti stunno ti stunno ah inventario sporo adesso vado di bombs away bombs away ha funzionato il bombs away li fa scappare ma che li fa scappare con lo smoke con tutto quel fumera lì li fa scappare ma molto bene li fa scappare li faccio scappare ma questo invece devo cartellarlo perché è un ribelle è un ribelle adesso ti ha cartelli miei da una bella cartellata ti hai rotto le palle ti devo stunnare devo darti una stunnatina e vabbè vai a fare in culo con sto inventori dai no non posso mi guarda in compa ma dove con chi ma deghe oh vai a fare in culo ho deciso di ranzarti di bestia ecco ti qua così fluttuante 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 avveneniamo i miei coltellini perché puttana niente sono costretto a concludere la sessione perché purtroppo eh sì devo assentarmi sono in un quarto va bene a rivederci a tutti i miei fans ai miei numerosi fans molto bene vi ricordo un solo nome Irohoto violentissima Irohoto violentissima Irohoto un'assassina rudelissima all war